Ciao a tutti, qui è Giorno ed oggi come ogni giovedì c'è stato lo State of the Game Ci aspettavamo qualcosa in più rispetto a quello scorso perché ogni volta sembra che ci rimandano sempre alla settimana successiva In attesa di novità, ma questa volta qualcosa di più c'è stato Ma andiamo con ordine e seguiamo la stessa scaletta più o meno che hanno seguito loro Naturalmente l'argomento principale è come al solito la 1.4 Per questa patch è stato annunciato un evento streaming per martedì prossimo Quindi il 13 settembre alle ore 18, ora italiano naturalmente Dove ci verranno introdotti i temi principali e le principali modifiche Questo perché pochi giorni dopo, ed esattamente il 15 settembre Aprirà ufficialmente il server di test pubblico Che ricordo sarà disponibile solo per gli utenti PC Qui faccio una piccola parentesi perché hanno parlato di una non chiusura totale agli utenti console Per quanto riguarda il server di test Naturalmente questa prima fase sarà solo su PC per stringere i tempi E per rendere tutto molto più fluido Ma in futuro non hanno chiuso le porte Quindi aspettiamo che anche noi sul console potremo provare le nuove patch in anteprima Comunque, tornando agli utenti PC Il 15 ci sarà l'apertura del server ad invito E saranno invitati tutti quelli che hanno partecipato alla selezione per l'Elite Task Force Che sta avvenendo adesso lì da loro alla Massive in Svezia Attenzione, non quelli che hanno scelto Ma quelli che hanno soltanto inoltrato la domanda di richiesta Quindi, se anche voi l'avete fatto Aspettatevi di entrare in anteprima nel server di test per provare la 1.4 Tutti gli altri invece che non hanno mandato l'applicazione Potranno entrare nel server di test dal 19 di settembre Data in cui appunto il server sarà aperto a tutto il pubblico Riguardo ai temi dell'1.4 Hanno richiamato i soliti problemi Hanno messo il focus su alcuni argomenti che ritengono fondamentali Ma soprattutto fondamentali ma che conosciamo già tutti Perché ci hanno ripetuto più e più volte durante tutti gli state of the game dell'ultimo periodo Quindi, la potenza e l'energia dei nemici troppo forti La scalabilità dei livelli di difficoltà L'esperienza in solo Che è comunque molto difficile E anche i problemi di loot riguardanti le varie attività Come per esempio i VIP che droppano solo stessa solitaria L'underground che droppa solo blind e firecrust e così via Non entro nei dettagli di queste cose perché ce li stiamo ripetendo da settimane E risulta poi che divento ripetitivo insomma Una cosa va detta però Hanno parlato un po' del PvP Dicendo che non verrà introdotta nessuna modifica sostanziale al PvP O alla Dark Zone in questa patch Ma naturalmente con tutti i cambiamenti della 1.4 Il cambiamento del PvP e della Dark Zone sarà inevitabile E quindi dovrebbe avere dei cambiamenti diciamo indiretti Da tutto il bilanciamento di armi, gear set e quant'altro Che appunto verranno apportati in tutto il gioco Quindi, come detto non mi dilungo troppo su questi punti Perché voglio aspettare di avere notizie più precise martedì Quando ci sarà la presentazione del log della 1.4 E lì allora potremo andare a snocciolare uno per uno gli argomenti Intanto vi saluto Non dimenticatevi di lasciarmi un like E iscrivetevi al canale Alla prossima, ciaoone